Dura presa di posizione del supporter Trust L'Aquilame che nel giorno in cui il campionato di Serie D ha osservato un turno di riposo ha richiamato tutte le componenti del tifo rosso-blu per analizzare il difficile momento che strattaversando la squadra e definire le strategie da adottare nei confronti della società. Diverse le direttive giunte al termine dell'affolata assemblea che si è svolta nella sala della Casa del Volontariato. I tifosi, compresi i gruppi organizzati, chiedono al presidente Chiodi di riconsegnare la società delle mani del sindaco in qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale e quindi dell'intera città impegnandosi contestualmente ad assicurare la gestione della stagione sportiva corrente e soprattutto a farsi carico degli oneri debitori progressi. Al contempo viene richiesto al sindaco di attivarsi insieme ad una delegazione del supporter trust al fine di individuare e valutare eventuali offerte di acquisto della società. Inoltre l'assemblea ha dato mandato al consiglio direttivo del supporter trust di vigilare nell'ambito delle future trattative sul possesso da parte degli eventuali acquirenti di sufficienti credenziali in termini di serietà, professionalità e discontinuità rispetto al modus operandi delle gestioni recenti con un rinnovamento dell'attuale organigramma dirigenziale in tutti i suoi componenti e un'aspicabile apertura alla partecipazione dei tifosi nell'ambito del sodalizio. L'assemblea ha infine invitato i tifosi e i media a tenere alta l'attenzione sulle vicende per sensibilizzare attori istituzionali e forze economiche del territorio per giungere ad una rapida e positiva soluzione dell'avvertenza societaria.